Fede e tradizione fanno rivivere usi e costumi delle genti dell'entroterra montano di Caolonia. Da giovedì a domenica, nella vallata della Musa, ritornano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Crochi. Fede, processione e pellegrinaggi si intrecciano con usi e costumi, giochi di società, spettacoli musicali e periotecnici, gastronomia e sagra della carne di capra. Programma festeggiamenti religiosi, giovedì e venerdì, dalle ore 17.30, Santo Rosario Meditato, seguito dalla Santa Messa. Sabato, 7 settembre, alle 10.30, Santa Messa, alle ore 17.30, raduno alla fontana di Petrida e pellegrinaggio sino al santuario, segue il Santo Rosario e Santa Messa. Domenica, 8 settembre, ore 9.30, Santa Messa, ore 11.30, Santa Messa e processione lungo gli argini della Fiumara Musa. Programma civile, venerdì 6 settembre, alle ore 17, gara di briscole e giochi di società, alle ore 21, concerto di Stefano Priolo. Sabato, 7 settembre, ore 21, Cerseio e Pocanova, in concerto, seguito dalla estrazione della 25esima riffa e dal tradizionale ballo del ciuccio, concluderà uno spettacolo pirotecnico. Domenica, 8 settembre, alle ore 13, chiusura dei festeggiamenti con uno spettacolo pirotecnico. Allieterà la giornata di festa il complesso bandistico Pietro di Mauro, città di Caolonia.